Debutto casalingo per il Pescara che esordirà nel campionato di Serie B 2020-2021 allo stadio adriatico Cornacchia contro il Chievo, proprio quella squadra con cui, albente godi però, chiuse la scorsa stagione regolare un mese e mezzo fa, perdendo 1-0. Una sconfitta che fece sfumare la salvezza diretta, relegando i biancazzurri ai play-out, poi vinti col Perugia. Curiosamente la stessa cosa accadde al Pescara lo scorso campionato, ma a parti invertite, poiché il Delfino, alla prima giornata, fece visita a quella squadra, la Salernitana, che aveva spedito ai play-out, battendola pochi mesi prima all'ultima giornata. Anche i Granata si sarebbero salvati agli spareggi per poi vendicarsi nell'ultima stagione con una doppia vittoria. È stato sorteggiato nel tardo pomeriggio, a Pisa, nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli, il calendario di Serie B, che inizierà con un anticipo il 25 settembre e si concluderà il 7 maggio con tutte le gare concomitanti. Tre le soste per le nazionali, una a ottobre, una a novembre, una a fine marzo e addirittura otto infrasettimanali con un torneo che vedrà impennare il proprio ritmo di gare a dicembre, 7 turni, e aprile, 6 turni. Si giocherà durante le festività natalizie, 27 e 30 dicembre e 3 di gennaio. In attesa della calendarizzazione ufficiale, Pescara Chievo al momento è fissata per sabato 26 settembre. Alla seconda giornata la prima trasferta, al Granillo di Reggio Calabria, contro la neopromossa Regina, il 3 di ottobre. Poi la prima sosta per le nazionali e il 17 ottobre è un match casalingo con l'Empoli alla terza giornata. Quindi il primo degli otto infrasettimanali, quarta giornata, Venezia Pescara, martedì 20 ottobre. Dopo la sosta per le nazionali di novembre, trasferta a Ferrara per l'ottava giornata, il 21, contro la SPAL. Tre gli infrasettimanali di dicembre, il 15, Pisa Pescara, il 22, Pescara Brescia e il 30, Pescara Cosenza. Il 3 gennaio, Reggiana Pescara, poi sosta con riposo per un weekend. Quindi le ultime due gare d'andata in pieno mercato di riparazione, Pescara Cremonese il 16 gennaio e Salianitana Pescara il 23. Il 30 gennaio, Chievo Pescara per la prima di ritorno. Altri infrasettimanali saranno Empoli Pescara, il 9 febbraio, Cittadella Pescara, il 2 marzo, Ascoli Pescara, il 16 marzo, Cosenza Pescara, il 20 aprile. Lunedì 5 aprile sarà replicato il turno di Pasquetta con il Delfino in trasferta sul campo del Monza di Berlusconi e Gagliani. Un finale intenso di campionato che vedrà l'epilogo all'Adriatico Cornacchia contro la Salianitana. Una stagione dura nella quale il Pescara non dovrà ripetere gli errori commessi negli ultimi mesi. Le prime gare ufficiali sono alle porte e la società dovrà cercare di accelerare i tempi per completare una buona parte dell'organico che Massimo Oddo per la prima volta potrà testare questo venerdì con l'amichevole del San Paolo contro il Napoli. Dopo gli innesti di Valdifiori, Seterra, Riccardi, Arlotti e Omeonga sono difese e attacco i reparti da rimpolpare maggiormente. Quasi fatta per il ritorno dall'Atalanta di Cristian Capone, sembra sfumare ma stavolta definitivamente l'attaccante Gennaro Tutino che con Luca Palmiero dal Napoli va alla Salianitana in base ad accordi già presi tra le due proprietà. Resta in piedi la trattativa per Federico Dionisi, centravanti che ha ancora un anno di contratto con il Frosinone ma che è ormai fuori dal progetto tecnico dell'allenatore Sandro Nesta.